Allora, siamo con Suor Lucia, delle Suore Francescane Missionarie di Cristo. È la mia prima esperienza del Festival Francescano e sono qui nello stand delle domande su Dio. Ecco, il tema di quest'anno del Festival Fiducia oltre la paura. Voi condividete, come dire, questa scelta agli organizzatori di dare questo titolo al Festival di quest'anno? Io direi che è un tema molto azzeccato nell'epoca in cui ci troviamo e la fiducia è quella che in questo momento sentiamo che viene meno e c'è bisogno di fiducia nell'uomo, in Dio e in quello che l'uomo sta vivendo in questo tempo. Molte sono le domande su perché Dio fa determinate, o meglio, per la persona che viene, si chiede perché Dio fa questo, perché permette questo, ma si capisce che alla base c'è anche un'immagine di Dio, diciamo, distorta, no? Dove invece c'è un padre che aspetta, che ama, che ama profondamente. Ed è vero, la fiducia in questo padre che ama si sente che si sta perdendo. E quindi questo tema che ha questo scopo anche di risvegliare l'amore e di risvegliare la fiducia in questo Dio che ti avvolge. Sì, penso proprio che sia un tema super azzeccato e spero che possa dare un suo contributo perché ci sia di nuovo, si risvegli dentro il cuore dell'uomo la fiducia in questo padre.